Spero che questa casa ci stiamo poco e ci fanno la casa di nuovo, perché casa tua è casa tua, non c'è niente da fare. Dopo il sisma inizia la rinascita in alcuni comuni delle Marche, dove sabato scorso sono state consegnate decine di soluzioni abitative d'emergenza. Le ultime 23 a Muccia, le ultime 40 a Castel Sant'Angelo sul Nera e le prime 7 a Camerino. Sono in totale 70 le casette consegnate nel macerattese alla presenza di Luca Ceriscioli, presidente della regione, di Angelo Borrelli, capo dipartimento della protezione civile nazionale, dell'assessore regionale Angelo Sciapichetti e dei rispettivi sindaci Mario Baroni, Mauro Falcucci e Gianluca Pasqui. A distanza di 17 mesi dall'ultima scossa di terremoto, noi siamo andati a Castel Sant'Angelo sul Nera, dove molte famiglie hanno trascorso la prima notte con un vero tetto sopra la testa. Infatti c'è chi in questo lungo periodo ha vissuto in tenda o in roulotte, i più fortunati in albergo o a casa di amici e parenti. 63 sono le casette consegnate complessivamente in questo comune per 125 persone, altre 15 invece vivono in abitazioni agibili per un totale di 140 cittadini. A contribuire alla loro realizzazione anche alla città di Fano, dove fra l'altro vive il sindaco Falcucci dal 1976. Siamo stati una goccia in mezzo al mare della solidarietà che c'è stata per Castel Sant'Angelo sul Nera. Noi nel nostro piccolo abbiamo contribuito attraverso il volley della Befana e lì, grazie a questa manifestazione per due anni consecutivi, grazie al contributo anche del quartiere di Sant'Orso di Fano che tramite la scuola abbiamo fatto la lotteria un anno sempre per il paese, un altro anno abbiamo fatto la tombola vivente sempre per Castel Sant'Angelo sul Nera, insomma nel complesso siamo riusciti a dare circa 6.000 euro. Toccante è stato il momento della consegna delle chiavi delle nuove casette tra commozione, lacrime di gioia e un po' di rabbia per non essere riusciti ad averle prima. Con questi governi che c'avevano, questi costruiscono solo per rubare, i cittadini stanno a mezzo alla strada e non ne frega niente a nessuno, non so se stanno a litigare i portroni, se stanno a litigare il piatto. E dice qui c'è gente che ha bisogno. No, non ho sentito mai i terremotati, i poracci, i poracci là, mai. E come le sembra la casetta? Bellissima, si volete entrare. Come no? Ci faccio a strada, prego. Beh diciamo abbastanza spaziose. Come no? Io sto dentro nel capannone, è meglio questa che nel capannone. Salve, possiamo visitare anche la vostra casetta? Come si chiama lei signora? Io mi chiamo Sandra. Lei oggi ha ritirato queste chiavi? Queste chiavi. Dove si sente? Non mi sembra neanche vero. In un albergo, in una casa? Sì, in un albergo. Quindi oggi si cambia un po' la situazione. Eh beh, via. Speriamo che si ritorna a casa, per davvero. Bocca al lupo per tutto. Grazie. La sua abitazione è andata completamente distrutta oppure è in agito? Non ho più nulla, avevo una stalla, un fienile, perché sono allevatore e non c'ho più niente, né casa né niente. Con le istituzioni vi sono state vicine, la comunità? No, la popolazione sì, il popolo italiano è eccezionale, però come istituzioni non è che abbiamo ricevuto più di tanto. Sa già qual è il suo numero, il numero della casetta? Sei. Il sei. L'ha già vista? No, infatti voglio andare a provare se funzionano le chiavi, non vorrei che hanno cambiato la serratura o hanno scambiato le chiavi. Non si sa mai. Quindi non si sa mai, quindi vengo giù. Fino ad oggi invece dove hai dormito? Io sono stato fortunato, c'avevo una casetta che non era stata danneggiata, il proprietario di Castelfitardo me l'ha messa a disposizione, quindi ho abitato lì. Inizialmente 3-4 mesi ho dormito nella roulotte, però nella roulotte non era possibile. O dovevo vendere tutto, andare via, oppure fortunatamente mi è capitata questa occasione. Inizia una nuova vita? Speriamo, speriamo, anche se c'è una certa età, però via. Forti coraggio. Grazie, grazie a lei, arrivederci. Quello delle casette è un passaggio temporaneo, ha detto il presidente Luca Ceriscioli, ci permette di passare alla fase successiva, tornare a casa attraverso la ricostruzione. Oggi, ha proseguito, è il giorno del risultato e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato portando il proprio mattoncino. Con le casette di oggi siamo arrivati a 1.300, quindi un numero importante. Sentiamo questo passo in un passo che cambia, diciamo, proprio fase. Usciamo da quella più complicata, quella che ci angoscia di più che quella dell'emergenza, e nella ricostruzione del desiderio di tornare ognuno nella propria casa. C'è un castello Sant'Angelo sul Nero, ad esempio, al tema della perimetrazione, significa progetti veri e propri per le intere aree, quindi sono cose un pochino più complicate, però necessarie per poter ritornare in sicurezza nelle proprie terre d'origine. Dopo la consegna delle chiavi sono state inaugurate due strutture, una polivalente al servizio della comunità denominata Amici del Trentino e un prefabbricato adibito ad ambulatorio medico e farmacia. Ho ringraziato in particolar modo anche la città di Fanno e tutte le associazioni, perché da quando sono a conoscenza che ero e sono un cittadino da 42 anni mi sono stato ancora più vicino. Siamo in grado oggi di ospitare, sono strutture emergenziali, ma servono per aggregare, servono per far sì di ripartire, di scambiarci le opinioni e anche di scambiarci i sogni, perché bisogna pure riuscire a sognare.